Prima una serie di fulmini, poi un cielo tornato quasi sereno. La bagarre di ieri in Consiglio Comunale arriva dopo, nell'ordine, i seguenti fatti. L'annuncio della realizzazione di una casa di comunità, impropriamente definita terzo distretto sanitario cittadino, nella zona di San Silvestro a Pescara. L'impegno del Comune nel mettere a disposizione della ASL l'area verde di via 8 Marzo. La protesta dei cittadini che la difendono con le unghie e con i denti e anche con una petizione da 1200 firme raccolte su change.org. La delibera, prima annunciata e poi ritirata dall'Assemblea Consigliare di ieri. Ed è qui che la protesta, viva e vibrante, si leva dai banchi dell'opposizione, che vorrebbe comunque discuterne. Nel mezzo, dopo il fulmine e pure i tuoni della minoranza, c'è l'incontro tra il sindaco Masci e i residenti della zona. Uno squarcio di sereno, mica tanto, perché se da un lato Masci spiega ai cittadini che la casa di comunità si può fare solo lì per tempi e modi e che ad essere spostato sarà invece il parco e già si lavora ad un sito alternativo, dall'altro lato restano i banchi dell'opposizione che, movimentata la seduta consigliare, sui banchi c'è pure salita sopra, accusando il presidente Antonelli di aver impedito il dibattito in aula e chiuso la seduta senza consentire la discussione degli ordini del giorno. Non so se è l'effetto della segreteria Schlein, però francamente mi è parsa che la reazione di alcuni consiglieri comunali di opposizione sia stata decisamente sopra le righe. Il ritiro della delibera, opportuno da parte del sindaco, ha permesso intanto di rassenare il clima con i cittadini e poi anche di ragionare su aree alternative non per la realizzazione del progetto ma per riattrezzare il verde pubblico che verrebbe soppresso. Quindi l'area alternativa non è per realizzare la casa di comunità che comunque verrà realizzata lì? Guardi, per quanto mi consta il progetto non è possibile realizzarlo su altro sito. La proprietà delle aree deve essere pubblica, quindi immediata disponibilità e ci deve essere la conformità urbanistica, cioè non possiamo avanzare varianti urbanistiche. Quindi con questi paletti così stretti quella è l'unica area disponibile. Il regolamento consente al consigliere comunale di presentare ordini del giorno nell'ambito di quella seduta per discutere temi e questioni che abbiano interesse per la città. Il presidente del consiglio comunale non ha nessun potere discrezionale di decidere quello che può essere discusso o meno. E' per questo che siamo andati dal prefetto a segnalare questo vuoto di democrazia che il presidente Antonelli ha determinato nel consiglio comunale. Lì c'è un parco che ha anche dei buoni diritti ad esistere perché fa parte di procedure che hanno anche una loro fondatezza. Quella è una zona su cui peraltro arriverà tra poco un forte carico veicolare perché lì ci sarà l'uscita della variante alla statale 16 su Pescara Sud quando sarà fatta l'eliminazione del cosiddetto svincolo a trombetta. Qui ci sarà un forte carico di macchine di inquinamento che arriverà. Quindi quel parco svolge una funzione che è preziosa oggi ma che lo sarà ancora di più domani e quindi non si può far scontare ai cittadini di quella zona le inefficienze e l'incapacità di questa amministrazione. Grazie a tutti.